Nella mia esperienza io ho visto che purtroppo le tutele vengono utilizzate per coprire delle non volontà di lavorare. Parlare male del sindacato in generale è veramente sbagliato, però devo dire che il sistema delle tutele normalmente va a proteggere il dipendente che sta a casa 5 mesi in malattia. Oggi perché non diciamo che in Italia tu vai da qualunque medico, qualunque medico, gli dici che a me è il di testa, ti dà una prognosi di un mese. Questo non può funzionare, questo non può funzionare. Dall'altra parte non può funzionare imprenditori che usano i lavoratori dipendenti come stracci. Io credo che ci sia un grande rischio in questo momento, che noi abbiamo combattuto duramente la nostra nazione per avere un sistema, un welfare state. Noi abbiamo rovinato questo sistema di welfare state con una minoranza di persone. Allora il mio rischio, la mia paura grande è che noi adesso per incorrere questo euro che così non può stare in piedi, noi andremo a fare l'unica cosa possibile, cioè tagliare i salari, tagliare le prestazioni sociali. Grazie. 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 Grazie.